Su questa partita, 14-11, ancora tre palle match, ancora tre palle match, splendide, Koshikov, Tiberti, Ucicov, l'assegno, Nicolai, Ucicov, è a uno, è a uno, è Serie A, è Serie A, è quella vera, è Serie A, quella vera, quella vera, Santa Croce, contro tutti, contro un pubblico incredibile, i cento di Padova impazziscono di gioia, tutti a centro del campo, Paolo Montagnani, eccolo qua, abbracciato dalla moglie, splendida questa immagine, splendida questa immagine, tutti a centro campo, Simone Roscini, Sandro Camporese, tutto lo staff straordinario di questa impresa, Padova torna in a uno dopo due stagioni e Paolo Montagnani impazzisce di gioia, con lui tutti i cento tifosi accorsi qui questa sera a Santa Croce per questa straordinaria impresa, 3-0, Padova chiude il conto, torna in a uno e c'è la firma, la firma di Ucicov, anche questa sera beccato a mille dai tifosi di Santa Croce, U ha risposto da campione, ma è stata tutta la squadra che ha regalato una straordinaria serata di pallavolo.